Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntata edicola. Allora ragazzi, oggi vedremo insieme i nuovissimi viscidosi animals che si trovano all'interno di alcuni barattolini che contengono la pasta putty. Allora, ve lo dico subito, io la pronuncio putty, ma in realtà si dovrebbe dire tipo in inglese putty, però siccome non mi va ogni volta di perdere tempo a capire come pronunciarla perfettamente, io dirò putty perché facciamo prima. Allora, questa nuovissima pasta ha una particolarità, infatti si trova nel formato XXL e appunto sarebbe morbida e modellante nelle nostre mani. Il prezzo è di 3,90€ e inoltre all'interno di ogni barattolino di pasta putty dovremmo trovare un personaggio. In totale appunto sono 10 personaggi da collezionare. Non li mostra qui, vabbè, poi li vedremo. Un po' di tempo fa avevamo visto insieme un'altra cosa dei viscidosi ed erano, se non sbaglio, dei personaggini molto morbidi, carinissimi. In questo caso vedremo la pasta putty. Ok, io direi di iniziare. Oddio, guardate che belli! Oddio, guardate! No, vabbè, sono carinissimi! Sembrano tipo quegli animaletti presi per gli esperimenti, tenuti così, diciamo, in questi barattolini. Abbiamo trovato l'arancione, il verde, l'azzurro, che carini gli animaletti, il blu, il viola e il giallo. Allora, io direi di partire proprio dal giallo, anche perché contiene una giraffa. Allora, ecco appunto il maxi formato, perché c'è molta, molta pasta putty. In ogni caso, apriamolo. Oddio, poverino, l'animaletto che si trova all'interno di questa pasta. Oddio! Ok. Non ti preoccupare, giraffina, ti salvo io! Oddio! Ok, non sono riuscita a togliere tutta la pasta, poi penso che la toglierò dopo. Comunque, ecco il personaggino. Molto carina, questa giraffina verde. Dai, comunque, molto carina. Per quanto riguarda la pasta, eccola qui, guardate che bella. No, davvero, ragazzi, è stupenda. Io vorrei prenderla tutta un attimo, se riuscissi a prenderla. Perché non esce? Ok, ce la sto finalmente facendo. Oddio, ma perché? Ok, ragazzi, ce l'ho finalmente fatta. Allora, la pasta è fantastica, davvero. Mi piace molto il fatto che sia, diciamo, semi-trasparente, perché quelle paste totalmente, per esempio in questo caso gialle, non mi piacciono. Guardate, si può anche vedere attraverso. Guardate il nostro piccolo animale. Anzi, allora, mettiamolo qui. Oddio, si vede tutto un po' distorto, però... Eccolo qui! Ok, basta, sto impazzendo. Comunque è fantastica. Poi, appena rimessa nel barattolino, prende subito la forma. Anche perché, come vedete, è super, diciamo, elastica. Direi di salvare la piccola giraffe e di rimettere per il momento solo la pasta. Oddio. Ok, andiamo avanti e passiamo adesso alla pasta viola che contiene... Non lo so, vedremo. Ok, allora, il colore di questa pasta mi piace tantissimo. Questo viola chiaro è fantastico. Guardate quanto è bella la pasta. Però devo dire che non si nota quasi per niente il viola, ma comunque mi piace tantissimo. In ogni caso, ecco appunto il personaggino che abbiamo trovato. Se mettesse a fuoco, ok. Che penso sia un orso. Non vorrei dire cavolate. In ogni caso, penso, penso. Ma non ne sono certa. In ogni caso, ecco la pasta. Bellissima. Si vedo attraverso. Ok, passiamo adesso a quella blu. Ecco qua. Uiii! Ecco qui. Anche la pasta blu è stupenda. Devo dire che per il momento è quella più bella e penso che lo rimarrà perché adoro le paste blu. Così. Guardate quanto è bella. Invece se la stiriamo. Ecco qua. Ah, inoltre il personaggio quasi lo dimenticavo è appunto questo. Un leone. Eccolo qui. Ovviamente anche questo è un po' sporco di pasta perché non sono riuscita a toglierla tutta. Uiii! E passiamo adesso a questa qui, ovvero quella azzurrina che contiene una zebra, se non sbaglio. L'unico problema di queste paste è doverle togliere dal barattolino perché vedete non si staccano, cioè è come se si appiccicassero al barattolo. E questo è l'unico problema. Ecco appunto il personaggino molto carino, mentre questo è la pasta. Mentre questa qui è la pasta che è assolutamente stupenda. Davvero mi piace ancora di più di quello blu questo colore perché ragazzi è fantastico. Guardate, guardate come si stende. E' qualcosa di stupendo, no? Davvero. Uiii! Oddio, adesso si sta rompendo però. Guardate quanto è bella. Stupenda. Penultimo, adesso devo cercare di andare velocissima. Apriamolo, oh mio Dio, quanti pezzettini si sono tolti. Dicevo, cerchiamo di andare veloci. Eccolo qui, penso sia un ippopotamo rosa. Stupendo, davvero, mi piace tantissimo. Mentre questa è la pasta che è la pasta che è la pasta che si è appena rotta e questa è appunto la pasta. Guardate che bella. Uiii, uiii, uiiii. Uiii. Ok, oddio. Sono impazzita, lo so. Anche questo colore è molto bello. Non so perché mi ricorda tipo il succo alla mela. Forse perché il succo alla mela verde è il mio preferito. E quindi non lo so perché. non me lo chiedete infine ultimo barattolino di pasta putty lo sto per dire all'inglese quello arancione che oddio che carino non me ne ero accorta contiene un elefantino che penso sarà il mio personaggio preferito guardate quanto è carino l'elefantino davvero lo adoro mentre infine questa qui è appunto la pasta fantastica guardate quanto è bella no davvero ragazzi tutti i colori in realtà mi piacciono in particolare il celeste e il verde e il blu ma in realtà tutti ui uffa comunque bellissimo questo invece mi ricorda più il colore del caramello non chiedetemi perché ma si bene ragazzi ecco qui tutti i viscidosi animals pasta putty sono davvero bellissimi sia i personaggini in particolare ovviamente l'elefantino che la pasta in generale davvero i colori sono stupendi e poi è anche bello l'effetto che produce diciamo la pasta una volta che è modellata fra virgolette davvero mi piacciono tantissimo e ve li consiglio vi ricordo inoltre che il prezzo è di 3,90 euro bene adesso passiamo i saluti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale e di passare anche dal mio profilo instagram ne ho due uno che si chiama julia war e uno che si chiama giulia.guerra.03 mi raccomando seguitemi su entrambi e mettete mi piace ai post e inoltre vi ricordo di seguire il mio nuovo la mia nuova pagina facebook che si chiama giulia.guerra.03 vi lascio il link qua sotto in descrizione bene noi ci vediamo alla prossima ciao ciao